Buongiorno, sono Dino Zantelli, pilota della O3000, partecipo a questo ride di uno scappo catamarano Clerici motorizzato Mercury, è il diciottesimo ride a cui partecipo, eccoci qua, siamo pronti a partire per questa avventura, speriamo nelle buone condizioni climatiche, anche se ci dicono tutti che c'è vento, vento è mosso soprattutto nel secondo tratto del percorso, però noi cercheremo di mettercela tutta.